Salve a tutti siamo qua io Francesco Fusillo e Maurizio Marangoni e vogliamo spiegare con questo piccolo video come si installa Sode Linux 2015 su una macchina è un Asus X555L nuova 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 scartata stasera scartata stasera è una macchina i3 con windows 8 e naturalmente il blocco il blocco UEFI che è così fastidioso nella installazione di sistemi linux allora abbiamo fatto del screenshot delle vari passaggi e li descriveremo in questo piccolo video per aiutare chi vuole installare e installarlo sulla propria macchina devo dire che qua è dato tutto bene molto bene contrariamente a quello che si pensava è stata installata la prima la prima la prima installazione non c'è stato bisogno né di riparare il boot perché è andato su perfettamente perfettamente questa è un'installazione da manuale che potrebbe rappresentare tante altre installazioni per prima cosa bisogna disabilitare il fast boot dopo aver abilitato la schermata di bios che in questo pc si accede con F2 si schiaccia F2 al momento della partenza e si entra nel bios a questo punto si deve disabilitare il fast boot poi si deve andare sul secure boot e togliere il secure boot perché impedisce qualsiasi altra installazione ecco la schermata di disabilitazione del secure boot a questo punto bisogna abilitare da boot l'avvio della della chiavetta che parte sotto wifi ma va bene così wifi va lasciato stare ovviamente si devono salvare si deve salvare questo passaggio e si avvia la macchina che questa volta non partirà da windows 8 ma dalla nostra chiavetta usb che è stata fatta con un file immagine 64 bit scaricato dal sito del cnr utilizzando pure boot ecco a questo punto la schermata di soldi linux 2015 che è questa volta in live noi la stiamo vedendo in live sul pc ok siamo entrati con gparted a vedere come come divise le partizioni sul disco abbiamo visto che la partizione più grande è quella dei dati in questo caso hanno fatto un'installazione abbastanza ben fatta perché hanno messo il sistema sistema operativo e una partizione nella se la partizione più grande hanno l'hanno riservata per i dati noi in questo caso adesso togliamo la partizione dati che sarà quella che poi andrà ad accogliere ad accogliere soldi linux ecco noi abbiamo ridimensionato ai minimi termini questa partizione con gparted lasciando un po di spazio poco poco perché non sappiamo di preciso cosa c'è dentro e non vorremmo fare pasticci può esserci che windows ci riservi dei dati qui dentro ecco quindi non lasciamo così e diaremo fra un po l'ok agparted per fare questa operazione di ridimensionamento e liberare lo spazio con un grande spazio per soldi linux ecco adesso diamo l'ok con questo comando ecco lo spazio preparato che è quello che accoglierà soldi linux ok qui parte l'installazione vera e propria di soldi linux secondo la procedura standard messa a disposizione da mint ecco sì cliccando su installa sul texto c'è altro da fare che seguire le istruzioni qui conviene tirare avanti non dire di usare la rete che così non si installano gli aggiornamenti e la procedura sarà più veloce un po più veloce questa è un'altra schermata si deve dare ok avanti questa è una schermata un po delicata perché conviene andare a scegliere altro per indicare alla installazione di posizionarsi sulla parte liberata precedentemente con gparted che adesso vedremo ecco qua abbiamo scelto altro e l'ultimo l'ultima scelta e poi si deve dire avanti ecco qua è una parte delicata perché scegliendo altro si apre la schermata dove si vedono le partizioni noi andremo a scegliere la partizione libera per quel che riguarda l'installazione del sistema operativo e dovremo indicare in più in basso dove andare a costruire il boot di avvio a soldi linux che in questo caso abbiamo visto essere la partizione 1 ma non è sempre la 1 a volte la 2 dipende dove si trova una partizione fat 32 di circa 100 mega e a lato si trova scritto boot wifi ok questa è quella che è stata evidenziata e lo spazio libero dove andrà dove si installerà soldi linux ecco questa partizione con doppio clic bisogna indicare che sia una partizione primaria e che nel punto di mount si sceglie la slash per far capire che una partizione che porterà un sistema operativo a questo punto si dà l'ok e qui si deve scegliere la partizione 1 come partizione che accoglierà il bootloader vale a dire il punto il punto di partenza per scegliere il sistema operativo abbiamo capito che la partizione 1 e mi ripeto perché è una fatta 32 di circa 100 mega che comunque è contrassegnata con il a più a destra e contrassegnata come boot ecco quindi non si può sbagliare ogni computer è il suo ecco a questo punto le cose delicate sono state fatte si deve dire semplicemente avanti ecco anche qua si deve dare semplicemente avanti perché la macchina costruirà una partizione di swap e qui parte l'installazione con la creazione con la scelta del fuso orario con la scelta della tastiera con la scelta dell'utente principale e quant'altro quindi queste sono tutte le fasi classiche qua si sceglie la lingua qua si introduce il nome del computer il nome utente e la password e si sceglie se far entrare la macchina alla partenza con o senza password e adesso si deve aspettare qualche minuto che si carichano i file e si imposti l'installazione in questa macchina è stata velocissima sarà durata 4 minuti 5 forse e siamo arrivati già al punto in cui si chiede se riavviare o continuare a usarla in modalità live per fare delle prove noi abbiamo chiuso e detto riavvia al riavvio ecco la sorpresa la macchina ha già il dual boot pronto con la schermata di scelta in alto su di linux in basso in basso windows 8 per prima cosa scegliamo windows è sempre bene andare a vedere se windows funziona perché windows in questo caso corregge l'hard disk e i settori che sono stati spostati e sistema l'hard disk per poter partire ecco qui la scelta appunto del ripristino di windows che ci pensa lui fai il bravo in questo caso e è bene poi dopo fare un riavvio di windows fatto quello si può riavviare con su di linux e verificare che vada anche il secondo sistema operativo che abbiamo installato appunto a fianco questa è appunto la partizione che fa partire windows poi dopo noi con group customizer siamo andati a semplificare queste voci che è un programma di su di linux però come vedete in automatico vengono fatte ecco la macchina in una fase di ripartenza di windows abbiamo fatto varie prove e come si vede windows parte senza nessun problema lo carichiamo completamente per essere sicuri che vada tutto bene e poi facciamo la prova con su di linux ed eccolo qua su di linux sta partendo il simbolo di mint la scelta dell'utente e la schermata di login ed ecco su di linux bello come il sole installato sulla macchina che aveva solo windows 8 dobbiamo dire che siamo stati anche fortunati perché di solito alla fine dell'installazione usiamo anche boot repair che è un programma in sistema per risolvere i problemi di boot ma questo ultimo sodio linux ha un pacchetto che Giovanni Caruso ha inserito per intervenire nel UEFI del bootloader quindi quasi sempre riesce a installarlo al primo colpo senza andare a fare altre riparazioni di boot allora ringraziamo per l'ascolto questo è tutto speriamo che sia utile è chiaro è chiaro questo tutorial per affiancare sodi linux a windows 8 ricordo che questo è un asus x555L Francesco Fusillo e Maurizio Marangoni per le guide di sodi linux tanti auguri e buona sperimentazione grazie a tutti grazie a tutti